L'Università degli Studi di Salerno si prepara ad entrare nella fase 2 con la riapertura della maggior parte dei laboratori ed anche un'iniziativa che va in aiuto degli studenti privi di un computer per effettuare gli esami scritti. Il giorno prima della data della prova scritta gli studenti riceveranno un computer che verrà poi ritirato con Corriere Espresso entro il giorno successivo lo svolgimento della prova. A presentare l'iniziativa è il Rettore dell'Università Vincenzo Loia che traccia anche un bilancio di quanto fatto in queste settimane. La fase 2 è caratterizzata sicuramente dall'apertura dei nostri numerosi laboratori soprattutto a tutti quelli che sono i gruppi di ricerca quindi anche come dire una concreta testimonianza da come si passa a una modalità completamente a distanza in una modalità in presenza sempre con il soddisfacimento però dei vincoli di sicurezza. Qualche numero che testimonia l'efficacia, l'efficienza della nostra risposta sulla didattica. Più di 1.270 corsi completamente erogati a distanza con più di 6.000 esami sia scritti orali che abbiamo espletato con successo con i nostri studenti, più di 680 laureati che abbiamo tra marzo e aprile inserito quindi nel mondo del futuro che per i nostri giovani non si è mai concluso. Certo dovremo ancora regolarmente continuare con tutte le nostre attività e quindi anche con una distanza nell'espletamento dei servizi didattici e su questo proprio per venire incontro ai studenti che per vari motivi non hanno a disposizione un personal computer per le prove scritte, le prove orali. L'Università di Salerno ha da pochissimo attivato un servizio in cui daremo 40 pc, li consegneremo gratuitamente agli studenti che ne faranno richiesta, questi pc arriveranno prima ovviamente dell'esame e verranno restituiti perché è un prestito che noi facciamo agli studenti subito dopo il regolare svolgimento dell'esame.